Piccoli, la pancia del paese, è il titolo di un libro e contiene anche la constatazione che il nostro modello di impresa è dimensionalmente diverso da quello di altre economie. Constatazione alla quale si aggiunge una riflessione anche amara, non sempre i piccoli imprenditori con le loro storie sono adeguatamente rappresentati e ascoltati. Con questo libro certamente si dà un colpo significativo al muro del silenzio e questo è certamente un passaggio positivo, così come è positivo il fatto che si sconfigge una cultura economica e politica che da troppo tempo guardava all'impresa diffusa al lavoro autonomo non come ricchezza e potenzialità ma come una eccezione, come una marginalità, vorrei dire come una contraddizione alla modernità. Ecco, tutte queste cose nel libro sono messe in evidenza e sottolineano il valore importante del piccola e media impresa, il valore importante di 4 milioni di imprese, di 8 milioni di partite IVA che pur nell'ororo eterogenità sono certamente un laboratorio importantissimo in questo momento per affrontare non soltanto la disoccupazione ma per aiutare la crescita. Presentato a Milano in sala buzzati, piccoli, scritto da Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, tratteggia i contorni di quella crisi invisibile ma profonda che sta segnando l'ossatura del nostro sistema economico. Un sistema finora fatto di valori familiari e solidità patrimoniali che ora cominciano ad essere in affanno, non bastano più. E il libro, pubblicato da Marsiglio, lancia un grido d'allarme e una richiesta di aiuto perché non si perda tempo e si rimedia quella distrazione della classe dirigente per colpa della quale la generazione proprio appare pericolosamente marginata dalle scelte del Paese.